Ci troviamo qua sul territorio di Castelmimi, dove siamo venuti insieme ai nostri pazienti a far vedere quali sono le nostre tradizioni per Natale, a far vedere la diversità che c'è in Moldavia, siamo anche noi cristiani però ortodossi, quindi piccole piccole differenze ci sono nella nostra religione. A quel lato là, in quel lato là ci sono le esibizioni di canzoni tradizionali moldave, più tardi ci saranno anche i balli tradizionali. Questa notte, tra il 12 e il 13 di dicembre, è la notte di Sant'Andrea, uno dei apostoli, è una notte miracolosa, la chiamano, una notte delle stregolerie, delle magie. Sempre in questa notte qua tutta la gente deve stare chiusa in casa, non uscire per le strade, perché dopo mezzanotte ci sono le streghe, i fantasmi. Per non entrare nelle case questi fantasmi, le donne devono spargere dell'aglio un po' dappertutto, vicino alle finestre, vicino alle porte, sulla casa, così i fantasmi non possono entrare in casa.